Sono Pierfrancesco Fattori, socio storico e agricoltore della cooperativa Gino Gironomoni. Abbiamo deciso di aderire alla Fondazione Seminare il Futuro, dopo 40 anni o più di percorso nel biologico biodinamico, perché la questione dei semi è diventata fondamentale. Abbiamo deciso di investire in ricerca e anche creazione di nuovi semi adatti alle nostre esigenze, semi che non hanno più niente a che vedere con quelli ibridi che sono stati in commercio fino ad oggi e nel convenzionale è tuttora la parte predominante, per presentarci ai nostri consumatori, agli agricoltori soci e alla società in generale in maniera sempre più credibile e come produttori di prodotti realmente diversi, dal seme fino allo scaffale.